Quanta neve! Quanta neve! Quanta neve! Finalmente è arrivato l'inverno! Provo a morire anche papà Natale! Ciao ragazzi! Oggi abbiamo dei personaggi di pigiamini! Super pigiamini! Sì! Abbiamo Gekko Abbiamo Gekko Abbiamo... Abbiamo pianto poi E abbiamo... Coppetta! E abbiamo anche... Ola! Di progetti! Lola... Fa un po' di neve! Fa la canina! Ma noi la useremo come neve Per i nostri pigiamini! Ok? Ci serve il ghiaccio! Manca una famiglia! Qua ne apriamo la costumina Mettiamo il ghiaccio! Sì! 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 Rimettiamo la costumina viola E... Cominciamo a girare la manovella! Sì? Sì! Ce la fai? O ti serve un aiuto? Sì! Dai! Sì! Se non ce la fate Fatevi aiutare da un adulto Che ha più forza! Dai! Giusti in giù! Va bene? Ok! E cominciamo a trittare il nostro ghiaccio Per fare la neve! Esce? Sì! Esce? Sì! Sì! E' uscito ancora? Togli le manine! Togli le manine! Facciamo uscire ancora! Dai! Ci serve altro ghiaccio! Sì! Ci serve altro ghiaccio! Sì! Noi continuiamo! CAPIT mond45 L'ultimo! L'ultimo cubetto! Vediamolo sola! Mi schiacci? La testa! Ok! Dai! Schiaccio! schiaccia, 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 schiaccia li facciamo giocare con la neve guarda guarda qui voglio giocare anch'io con la neve voglio giocare anch'io con la neve quanta neve finalmente è arrivato l'inverno proprio vorrì anche papà natale no almeno hai ricoperto un getto non hai paura che prenda la freddore? si hai paura? si e allora voglio giocare la neve no wow che bello è rotto Gekko povero Gekko povero Gekko è molto bello povero Gekko povero Gekko facciamo una pallina di neve? si la palla di neve ecco la palla di ghiaccio è questa non è di... Gekko 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 lo rompe pure quello piano ragazzi iscrivetevi guardate altri video ciao ciao devo aprirli io queste con le monetine ciao a tutti bravo Mirto non abbiamo niente wow fai vedere a tutti cosa hai trovato e io guardo mi ho trovato le palline di natale dei minion vediamo apriamo chi fa più veloce? prima tu guarda trovo dei sardini in una pallina trovo dei sardini ti aiuto dai ti aiuto belle queste palline di minion che li metiamo anche sull'altro qui ne pare guarda quanti guarda quanti dai 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 wow altri monetine dei minion quante monetine e li mettiamo sull'albero uguali e adesso apri tu io in verità dovevo aprirli io queste con le monetine tu me ne hai fregati ecco qua e li metteremo sull'albero sul nostro albero di natale guarda guarda guardate ma c'è la forma c'è la forma c'è la forma di papo natale oh mamma mia hai mosso la testa di papo natale hai spaccato papo natale e lo vedo ce l'ha pure la sorpresa vediamo cosa c'è dentro la sorpresa cosa c'è? cosa c'è dentro la sorpresina? ohhh è un pupazzetto guarda è un pupazzetto è un pupazzetto è un pupazzetto con la spila porta ad attaccare anche questa sull'albero siiii guarda si fa così e così lo attacchiamo all'albero no come vuoi attaccare il nostro albero? che poi vediamo che qui c'è tutta la collezione guardate ci vogliamo ragazzi noi intanto ci rivolgiamo tutti questi bellissimi minion e il babbo natale ciao a tutti